Una settimana del design per noi significa un'opportunità per esprimere la gastronomia in un'altra lingua, in un'altra direzione. È bello perché è un evento estremamente culturale. Per noi il design è qualcosa che porta a compimento un'atmosfera. Personalmente Beopen lo interpreto come la possibilità di essere aperti con se stessi, per cui la verità in assoluto. Cercare di ascoltare la materia e creare questa relazione. Questo sembra essere aperti a un dialogo, a una bellezza che è di ordine superiore. Questo è il mio punto di vista.